Un decalogo di comportamento e sicurezza che riguarda i cittadini ma anche le stazioni balneari che costellano le spiagge del territorio. Questa è l'ordinanza illustrata oggi dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo ed entrata in vigore il 1 maggio, con durata fino al prossimo 31 ottobre. Tra gli argomenti trattati si è discusso delle strutture balneari che, in possesso della concessione demaniale, hanno l'obbligo di garantire il libero e gratuito accesso per i cittadini di raggiungere la battigia e sempre per esse vige l'obbligo di controllo e salvataggio dei bagnanti, come disposto dall'autorità marittima con riferimento ai bagnini, i quali, oltre a dover avere l'idoneità fisica, devono essere in possesso dell'apposito brevetto. Ma la nuova ordinanza riguarda anche il riordino e il rilancio della nautica da di porto e del turismo nautico, in modo particolare per chi è in possesso di scafi a motore, vige l'obbligo di mantenere la distanza dalla costa entro i mille metri. Trattate anche le regole comportamentali per i bagnanti, in modo particolare per coloro che praticano attività subacquea. Infine, sono state illustrate le zone di mare precluse alla balneazione per cause di natura sanitaria. Per tutte le emergenze, la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha anche reso noto il numero di telefono 1530, attivo 24 ore su 24. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione, ritengo che anche sulla base delle esperienze degli anni passati, non ci siano grosse criticità, se non quelle che vengono gestite attraverso l'esperienza consolidata da parte di tutti i concessionari dei vari stabilimenti. È inutile sottolineare che comunque una gestione in qualche maniera efficace debba essere comunque controllata e garantita attraverso il buonsenso di chi esercita questa funzione e naturalmente attraverso la nostra costante, continua e attenta funzione di sorveglianza, sempre e comunque a garanzia della sicurezza della balneazione degli utenti del mare. Rispetto all'anno scorso siamo passati da due assistenti bagnanti per fronte mare di fino a 160 metri a un assistente bagnante per ogni porzione di 80 metri. Questo ovviamente significa che le concessioni che hanno un fronte mare fino a 80 metri potranno disporre di un assistente anziché due, ma ovviamente la condizione è quella di garantire una continuità nel servizio di watching fronte mare senza interruzione in modo da garantire che comunque il servizio di vigilanza, anche se con un bagnino solo, possa comunque essere assicurato in maniera efficace.